Il mio caro Enrico oggi è martedì e la mia Chiara ha fatto la sfoglia per far le tagliatelle ed io vorrei che poi tu e la tua Chiara foste qui con noi vorrei che Cesarino fosse qui era il mio papà per assaggiare queste tagliatelle con il ragù di soia non crederesti mai o meno fa la Chiara è buona sai vorrei anche K il Drago qui con noi è bello avere fabbriche di polli se vuoi ci organizziamo e ci sentiamo poi ma intanto manda un'email quando vuoi fortuna che noi siamo adesso qui anche se qui e dove non sappiamo è un po' vero è un po' virtuale ma bisogna far così quando c'è un'oculere nuovo aspetta che lo provo e intanto passa il martedì martedì buon mercoledì e vabbè dove è il sync? il sync dico il nostro corso è un po' vero è un po' vero Grazie a tutti